ciao sono michele faccio di professione lo stilista e sono approcciato a questa esperienza degli affitti brevi perché avevo un appartamento che volevo vendere non sono riuscito a vendere l'ho affittato a lungo termine però ho avuto dei problemi di conseguenza ho deciso di trovare un alternativo questo mi ha spinto a trovare la piattaforma di airbnb ho incominciato a operare con questa piattaforma però non ero molto soddisfatto perché le entrate non erano quelle che mi aspettavano in conseguenza mi ha portato a fare una ricerca più approfondita e ho incontrato casualmente su una sponsorizzata su facebook un corso che spiegava come massimizzare incassi a livello di affitti brevi e mi è comparso questa pubblicità di ludovico dove spiegava questo corso mi ha incuriosito e ho cercato di approfondire quello che poteva essere la sua capacità di poter riuscire a formare in riferimento al corso e su youtube sono andato a fare una ricerca più approfondita ho visto che i suoi contenuti erano dei contenuti validi e questo mi ha spinto ad acquistare questo corso devo dire la verità questo corso mi ha dato la possibilità di veramente di ottimizzare quello che potevo potevo fare a livello di incasso su questo mio appartamento ho visto i primi risultati e mi sono spinto a trovare un'alternativa di ampliare quella che poteva essere il mio asset a livello immobiliare inizialmente c'avevo la mentalità di comprare casa per poter poter affittare invece nel corso mi è stato spiegato che c'è una nuova forma che si chiama property manager che non conoscevo che in pratica prendere un appartamento in gestione in cambio di una percentuale studiando il corso ho capito che c'erano altre opportunità dietro questo mondo di conseguenza mi ha dato la possibilità di approcciarmi nella ricerca di nuovi appartamenti in nuove situazioni che potessero rendermi delle entrate passive in questo caso facendo questa ricerca mi sono approcciato a un appartamento su una zona turistica balneare che si alzarebbe il parco san bartolo e niente ho fatto un colloquio con una proprietaria e questa proprietaria gli ho spiegato se poteva darmi in gestione del suo appartamento con una percentuale per poter riuscire a metterla su di affetti brevi però potenzialmente questa signora su colloità non riusciva a capire quello che cosa significasse altro che significasse il property manager e di conseguenza gli ho proposto il sub affitto che per me è una cosa sconosciuta probabilmente c'era un condizionamento che potesse essere un qualcosa di illegale poi approfondendo il tutto visto che si poteva tranquillamente fare un contratto con una clausola di sub affitto e ho proposto questa possibilità a questo proprietario e questo proprietario mi ha dato diciamolo che e di conseguenza è nato una nuova esperienza come usufruire di una proprietà altrui traendo i vantaggi che cosa significa significa che ho preso questo appartamento che non era messo benissimo però il posto era veramente un posto imprantevole ho cercato di mettere le mie skill a disposizione a fronte di questo di questo appartamento e l'ho rimodernato l'ho portato a un livello alto e di conseguenza l'ho caricato su Airbnb la cosa bella è stata questa perché Airbnb mi proponeva delle tariffe molto bassi inizialmente e invece io non li ho presi a prendermi in considerazione e di conseguenza ho fatto delle tariffe altissime che sul mercato ero quello proprio la nota stonata di lì a breve ho fatto ho avuto una prenotazione di sette giorni con quelle tariffe che avevo impostato e sono andato avanti di conseguenza poi dopo è andato diciamo sempre crescente ho realizzato in sei mesi un totale di 27 mila euro inizialmente e adesso la stagione estiva è passata la sfida era nella stagione invernale ho visto il potenziale che c'ha diciamo l'appartamento anche la stagione invernale e ho visto che si può si può lavorare con delle tariffe più basse però si può lavorare la cosa importante per riuscire ho voluto non abbassarle tante vedere quali erano il valore aggiunto del appartamento che mi potesse aiutare a tirare su le tariffe questo è stato il due accessori che erano degli accessori inclusi nell'appartamento vasche del massaggio e cammino e ho visto la tipologia di cliente e questo mi ha dato la possibilità di utilizzare queste leve per poter riuscire a lavorare anche in inverno siccome io con il lavoro che ho fatto girato molto il mondo ho visto che nel momento in cui ero all'estero per un po di tempo e ritornavo in italia vedevo che l'italia aveva delle potenzialità a livello di arte a livello di location a livello di luoghi fuori dal normale proprio molto belle però le strutture che orbitavano all'interno di intorno a queste diciamo queste location questi luoghi di cultura non erano all'altezza allora di conseguenza penso che per poter riuscire a intercettare un cliente altospendente bisognerebbe puntare sulla bellezza nelle strutture recettive questo diciamo è una cosa fondamentale ho visto che paga paga perché chi si avvicina all'italia è un cliente esigente e l'esigenza che vuole fuori vedere il bello lo vuole vedere anche all'interno delle strutture attualmente per il lavoro che faccio per il tempo da dedicargli a questo nuovo business e mi sono concentrato su solo su due strutture dico la verità ho molte proposte da mettere in campo però attualmente per il tempo vorrei fare un prodotto di qualità e cerco di dedicarmi a questa struttura una struttura è un appartamento che ho a Rimini di mia proprietà dove praticamente è nata l'idea di diciamo conoscere il mondo degli affitti brevi e poi un'altra struttura ce l'ho vicino che dice monte sul parco san bartolo ed è una struttura in sub affitto punto a lavorare in property manager però attualmente non ho ancora niente o diciamo delle proposte però come dicevo prima non riesco a gestirle e niente però il mio mio obiettivo e la mia aspirazione è cercare di avere delle strutture ricettive di lusso per clienti alto spendenti dove posso esprimere quelle che sono i miei talenti a me piace l'arte mi piace la bellezza mi piacciono i luoghi dove c'è l'armonia equilibrio dove la gente possa vivere al cento per cento come dicevo prima lo stile italiano parlando di tasso di occupazione ho visto che nell'alta stagione o dal 90 per cento di occupazione nella bassa stagione sul 50 per cento la prima struttura quella rimi mi genera all'incirca su dai 10 12 mila euro prima mi generava prima del corso mi generava sui 6 7 mila nella seconda struttura ho generato inizialmente delle belle cifre il mio obiettivo era da i 30 mila euro l'anno al 45 mila dal momento che ho caricato l'annuncio su airbnb questo della struttura sto parlando della struttura di castellimezzo in subaffitto dopo quattro giorni ho ricevuto la prima la prima prenotazione dopo si parla con amici conoscenti di questo questa nuova attività e questi miei amici sono incuriositi e io gli spiego cosa faccio in riferimento agli affitti brevi e nascono le solite domande ma come posso farlo oppure io questo questa questa cosa mi potresti aiutare io purtroppo per il tempo che ciò faccio pratica ad aiutarli e li direziono su quello che è la fonte in questo caso il corso di bnb academy difatti c'è stato uno dei miei colleghi che mi ha chiesto come fare e gli ho spiegato che c'è questa possibilità questo corso qui di conseguenza lo pubblicizzo in maniera diciamo molto facile a questi miei colleghi amici perché secondo me è uno strumento valido e sono un buon investimento un buon investimento perché dopo poco riesci a rientrare del costo di questo corso per me ha un valore che può girare 1500 euro 1600 euro per quello che può generare a livello di se fatto bene fatto da da manuale può generare molto 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 di più quando ho avuto la possibilità di conoscere su facebook ludovico mi ha risuonato molto la sua il suo carisma il suo carisma perché perché lo vedo molto molto imprenditore ma non è un imprenditore basta fine a se stesso un imprenditore dove ha una forte ambizione e un forte entusiasmo che riesce a coinvolgere tantissimo e questo coinvolgimento si vede dal gruppo perché c'è un gruppo parallelo cioè nonostante diventa il corso ti dà la possibilità anche di entrare a far parte di un gruppo su telegram dove c'è un'interazione quotidiana su soluzioni di problemi che possono nascere quotidianamente giornalmente credo che lui da speranza c'è la speranza da la possibilità di trasformare un una difficoltà in opportunità e questa cosa qui lo fa diventare grande lo fa per se stesso e lo trasferisce gli altri questo diciamo qualcosa che a me mi affascina il suo modo di fare c'è il mio figlio che ha 14 anni vede giustamente viene catturato dal mio coinvolgimento dal mio entusiasmo e lo coinvolge anche a lui di conseguenza lui mi chiede che che fra poco vorrebbe pure lui incominciare a fare questo tipo di attività fare check in fare check out alcune volte interagisce anche con me nel momento in cui dobbiamo fare delle scelte a livello di designer all'interno della casa in questo caso la componente che deve avere un ragazzo deve avere la curiosità la ricerca la dedizione la determinazione poter portare puntare all'obiettivo e avere un'aspirazione come fa lui ricco è un'aspirazione molto alta in questo caso adesso vi mostro l'appartamento che ho preso in subaffitto che ho trasformato da quello che poteva essere un appartamento trascurato a un appartamento di lusso grazie a tutti